Qua si sente bene Non so Sulla live Se si sente bene Ditemi un po' Se adesso si Si sente bene Così continuiamo Da me il locale Sembra che si senta bene Ok Allora datemi solo un secondo Che risistemo le cose E riprendiamo Allora 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, apparentemente è questo dispositivo qua sotto. Spegniti! 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 Potrebbe essere questo ad aver attirato gli smerigli. Che stai facendo? Per il sole! Non vuole spegnersi! Quel dispositivo sta scatenando gli smerigli. Spegnilo! Io? Non ho idea di come si spenga né di come abbia fatto ad accenderlo. L'ho recuperato in una vecchia officina. Dovrebbe bastare. Ora inizi a parlare. Perché recuperi materiale senza sapere di che si tratta? I miei clienti domandano pezzi straordinari, spesso ai confini della realtà. E le storie sulle mie avventure ne aumentano il valore. Dove gli altri sognano di andare, io prospero. Non esiste vetta insormontabile che io non possa scalare. I miei scambi richiedono sacrifici. Compreso il sacrificio di innocenti. Quegli smerigli non hanno risparmiato nessuno. Non volevo che accadesse questo. Volevo solamente saziare l'appetito di ricchi nobili che... non lasciano mai la loro dimora. Hai trovato il dispositivo in un'officina? Abbandonata. Più o meno. Mi sono accampato sulla dorsale est. Una tappa ardua già nel fiore degli anni. Ma... mi sono stretto. Va bene. C'erano altri dispositivi in questa officina. Dell'equipaggiamento. Mai vista roba del genere. Un silo insolito che ha reso completamente vani i miei tentativi di aprirlo. Mentre cercavo, pensavo a quanti segreti sono ancora nascosti in questo mondo. Visto che nella nostra profonda ignoranza noi... E quindi? Oh... Non ho visto altri dispositivi. Ma potrebbe essercene ancora uno. Pronto a scatenare i suoi orrori. Ahahahah. Sapevi fin dall'inizio che questo dispositivo attirava gli smerigli? Per il sole? No! L'ho tenuto qui per un po', ma... Quando sono tornato, stavo per finire decapitato da uno di quei mostri volanti. Bene. È un dispositivo pericoloso. Devo trovare quell'officina e assicurarmi che sia l'ultimo. Dov'è? Sulla dorsale est. Poco dopo il mio accampamento. Ma... Quando sono tornato dall'officina, un fragore mi ha avvertito... ...del mio destino. Mi sono gettato nel fiume poco prima che una valanga travolgesse il sentiero. Non puoi raggiungerla. La salita è troppo pericolosa. Tu non ti preoccupare, amico mio. Ci penso io. Tu resta lontano dall'officina e cerca di non provocare altri disastri. Ok. Allora, ragazzi. Mi sono accorto... ...e non ho sistemato bene i settaggi. Allora, cerchiamo... Fatemi cercare di sistemare bene i settaggi del video. E riprendiamo. Scusate, ma ci sono un po' di problemi tecnici questa sera. Ci rivediamo fra un paio di minuti. Ciao. Scusate, ma ci sono un po' di problemi.